Bentornati sul mio canale Oggi video unboxing in collaborazione con Pandal Selected e questo è il pacco che mi è arrivato in pratica quello che io ho scelto per fare i video ora andremo a vedere il contenuto assieme vi ricordo che chi compra da questo sito dalla Pandal Selected io metterò un codice sconto che per i miei utenti con una spesa minima di 40 dollari comunque c'è tutto nell'info box avrete lo sconto andate a vedere questo sito perché contiene tantissima una roba bella ora vi faccio vedere quello che io ho scelto iniziamo da questo questi questo è il codice non mi ricordo mai come lo devo mettere vabbè me lo metto in tutte e due le maniere poi vedete qual è al dritto la rovescia queste sono molle ora vi faccio vedere queste molle qua che si aprono in questa maniera vedete perché voglio fare delle diciamo dei portamoneti ma si possono fare anche portaocchiali qui dentro abbiamo le nostre viti per bloccare il tutto poi nel video vi farò vedere poi ho preso appunto della vincelle questi ce ne sono di tanti colori guardate questo è il codice così o così comunque dopo ve li metto tutti nell'info box e questa al tatto è molto molto morbida e bella vedete ce ne sono di diversi colori poi e infine questo che vi faccio vedere ah il codice è questo o così o così apriamo e qui abbiamo per fare dei portachiavi ora vi faccio vedere io questi era da tempo che lo cercavo vedete vedete questi e questa che abbiamo questo codice qua ma penso che sia sempre comunque nel kit è la pinza per stringere faccio vedere vi dico era tanto che la cercavo vedete questa è la pinza per stringere questi si farà così poi dopo comunque vi farò vedere quando farò il video e anche questo è molto interessante qui abbiamo diversi colori vi faccio vedere c'è bronzo oro argento argento scuro marrone scuro bronzo scuro sono questi colori sono bellissimi bene questo è tutto il pacchetto che ho preso la prossima settimana farò un video spero che vi abbia fatto piacere questa condivisione e niente mi raccomando andate nel sito della pandal selected e noi ci vediamo la prossima settimana con un video con questi materiali e niente se vi è piaciuto mettete pollice in su e iscrivetevi al mio canale ciao